Questa volta è il momento di fare entrare un uomo che è stato ministro, è stato sottosegretario, è partito da un paesino della città metropolitana di Napoli, cioè Cardito, è arrivato fin qui e ha fatto un clamoroso coming out, si dice così, domenica nel programma di Fabio Fazio, cioè ha raccontato di essere omosessuale. Noi lo ringraziamo per essere qui con noi, ladies and gentlemen, Vincenzo Spadafora. Che bello inizio! Buonasera, Serena, buonasera. Eccoci, è una bella canzone, sono molto affezionato. Perché? Ma intanto adesso un po' di più perché la splendida giornata da domenica è iniziata ancora di più e sta ancora durando, diciamo. Perché? Beh, perché dopo la serata da faccio in cui ero particolarmente teso, non che non lo sia anche adesso qui con te, è iniziata una splendida giornata che dura ancora, nel senso col senso di libertà che un po' mi aspettavo anche dopo quella intervista di fatto c'è stato. E poi vabbè, questa è una canzone che ricorda anche di una vita piena di cose, posso dire tutto ma la mia è stata effettivamente una vita molto intensa fino ad oggi e quindi mi riconosco molto in queste note. E se la splendida giornata arrivava dopo aver, noi qua diciamo sempre in questo studio, no? Che l'autenticità è la chiave della felicità, no? E cerchiamo sempre di comunicarlo perché io ne sono convinta e penso che poi se siamo noi stessi siamo più felici con noi stessi e quindi noi possiamo essere con gli altri. Perché ci ha impiegato così tanto a dire una cosa che tutto sommato... No, tutto sommato è normale per te, per tante persone per fortuna, ma non diciamo che è così normale nel nostro paese perché invece purtroppo... Beh sì, oggettivamente, oggettivamente tante persone... Guarda, dipende molto anche dal contesto nel quale cresci, dal contesto sociale, culturale, dalla tua famiglia, da tante cose, cioè non è scontato. Io non penso che l'Italia sia di per sé un paese omofobo, dico sinceramente, però da qui a dire che noi siamo un paese culturalmente aperto su questi temi... E peraltro tu vabbè, non già le politiche o dell'Ema, insomma vediamoci del tu va bene, va benissimo, anche perché ci conosciamo pure da prima che entrassi in politica e perché sei stato presente all'Unicef, giovanissimo, garante per l'infanzia. Tu che cosa provavi? Cioè la cosa che poi mi incurio... mi domando spesso, no? Perché è una cosa che io non posso provare, non lo so, non lo posso provare, no? Il tipo di discriminazione o di chiacchiericcio che si deve avvertire nella propria vita. Ecco, questo chiacchiericcio, che tu hai chiamato un ronzio diffuso, in che cosa consisteva? E che oggi fortunatamente... Ah! Guarda, sì, è stato più il chiacchiericcio nel mio caso, perché io ho avuto la fortuna, diciamo in qualche modo, di andare via dal luogo dove sono nato e dove sono cresciuto a 18 anni. Io sono arrivato agli inizi degli anni 90, il 1992, qui a Roma e quindi sicuramente quegli anni a Roma li ho potuti vivere con tranquillità, anche se tra l'altro in quegli primi anni in cui ero a Roma non avevo neanche consapevolezza del mio orientamento sessuale. Quindi sono stati anni che ho vissuto in maniera spenserata come tutte le persone a 20 anni. Dopodiché, quando ne ho preso consapevolezza negli anni successivi, il chiacchiericcio vero c'è stato soprattutto negli ambienti di lavoro e, devo dire, in politica. Perché sembrerà strano, ma mentre nel mondo della cultura, dello spettacolo, della musica, magari tutto questo è quasi pop, invece il mondo della politica viene ancora usato quando vuoi ferire un avversario, quando in qualche modo gli vuoi mettere un'etichetta e porgli dei limiti, quando vuoi cercare di colpirlo, anche magari facendo di questo, che tu dici giustamente, una cosa normale, uno scoop rispetto alla sua vita privata, rispetto appunto ai suoi gusti sessuali, e quindi cercare di metterlo in difficoltà. E tu questa cosa ti feriva? Sì, mi infastidiva tantissimo soprattutto, perché come te lo trovavo veramente assurdo che potessero pensare che questa fosse un'arma vera. Non stiamo parlando di cose gravi di cui ovviamente tutti noi, soprattutto Poliggi, dobbiamo rispondere, ma stiamo parlando di una cosa naturale. E quindi questa cosa, eh lo so, però proprio per questo era necessario secondo me liberarmi e parlarne, ma anche per dare una testimonianza politica. Io non l'ho fatto solo per me stesso, questo è comunque un periodo storico in cui ogni tanto siamo lì che facciamo qualche arretramento sui temi culturali. Allora chi fa politica sicuramente secondo me è una responsabilità in più. Io penso che la vita privata debba rimanere privata per tutti, cioè nessuno ha il dovere di dover raccontare in giro quello che fa nella sua vita privata. Per i politici, per le persone che hanno un ruolo pubblico può diventare, e nel mio caso spero che lo sia, una testimonianza utile. Anche perché se si nascondono delle cose poi ci può essere una forma tra virgolette di ricatto anche quello, se tu sei trasparente sei trasparente in tutto. Senza riserve, quante telefonate ti sono arrivate, messaggi dopo Fazio? Guarda, è stata una cosa straordinaria, veramente inimmaginabile, cioè sono ancora lì che rispondo, anzi spero che insomma qualcuno non si offenda che ancora hanno avuto risposta e soprattutto anche di persone che non conoscevo, di persone che hanno chiesto il mio numero, di tante personalità. E questa cosa mi ha veramente fatto molto piacere, ma mi ha fatto ancora più piacere leggere sui social tantissimi commenti di ragazzi, di ragazzi che hanno visto in questo gesto un gesto di conforto e di mamme. Questa cosa mi ha colpito molto, di madri che avevano ascoltato l'intervista e che in qualche modo mi dicevano che avevano da tempo stabilito un rapporto con i propri figli per cercare madri che mi dicono, ah io ho intuito che mio figlio probabilmente abbia un orientamento sessuale, ma non mi ha mai parlato. Tu avresti voluto che tua mamma ti chiedesse qualcosa sul tuo orientamento sessuale? Allora guarda, io sono convinto di una cosa, questa adesso è la prima volta, questa non è neanche scritta nel libro, però mia madre è andata via nel 2013, quindi otto anni fa, ed era comunque una donna adulta perché i miei genitori mi hanno avuto, ah che bella, vediamo, perché i miei genitori mi hanno avuto in tarda età, nel senso che mio padre aveva 50 anni, lui era nato tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi comunque veramente il terzo, il terzo, il terzo, l'ultimo dopo dieci anni dal primo figlio, mio fratello Alberto e da mia sorella Maglia dopo otto anni. E quindi mia madre invece era un po' più giovane di mio padre, però comunque era una donna adulta, non ne abbiamo mai parlato, quando prima ti dicevo retroterra culturale, una donna della provincia di Napoli, una donna semplice. Ma tu pensavi che lei non ti avrebbe capito? No, guarda, io ho capito una cosa, mia madre fino a un certo punto della mia vita, quando io tornavo da Roma nei weekend, magari venivano a casa persone altro, la domanda era sempre, ma adesso quando è che ti sposi, adesso quando è che avrai figli, quando è... Da un certo momento in poi, dopo tante chiacchierate, perché io e mia madre chiacchieravamo ore e ore, quando io tornavo, soprattutto dopo la morte di mio padre, chiunque veniva a casa e diceva, ma Vincenzo adesso quando è che si sposi, mia madre diceva, portanto è che è felice, io da quel momento in poi, penso che mia madre, anche se non ce lo siamo mai detto, avesse capito tutto. E tu perché non hai avuto un amore così importante, come quello legame che lega un figlio o una mamma? Sai perché te lo chiedo? Perché tanti altri ragazzi invece, secondo me, siccome è giusto trovare la forza anche di parlarne, magari possono capire, si medesimano, no? E quindi possiamo dire loro, è giusto non dirlo, magari forse è anche giusto non dirlo se uno ha timore di, che l'altro possa rimanere con una cultura diversa, con un retrotario diverso, che possa rimanere colpito, ecco questo... Io ho capito che non c'è una casistica unica, sono veramente tutte storie, ognuno di noi ha una vita... E tu sei contento, cioè sei tranquillo così, col fatto che tu dici lei ha capito, anche se non glielo ho parlato, va bene così, perché diciamo il legame padre-madre-figlio poi è superiore alle parole? Esattamente, io penso di sì, io penso di sì, e penso che con mia madre, il rapporto con mia madre, averlo saputo prima della sua morte non avrebbe tolto o aggiunto altro, io di questo veramente lo porto con un cuore, almeno voglio convincermi che sia così, però ne sono convinto, e sono convinto che lei adesso in qualche modo lo sappia. E sono convinta anche che sarà molto orgogliosa di te. Grazie. E nel libro racconti anche appunto di questo papà che aveva cominciato a lavorare giovanissimo, e racconti questo passaggio che è molto importante nella vita di ognuno di noi, cioè il momento nel quale i nostri genitori ci lasciano, e racconti che eri con papà, quando papà è morto e non sei riuscito ad arrivare in tempo, quando mamma se n'è andata. Eh sì, questa è una cosa purtroppo che anche dopo tanti anni gestisco sempre con difficoltà, ed il paradosso è stato che con mio padre, però forse questo è anche un segno della vita, avevamo sempre avuto un rapporto molto complicato, molto difficile, poi alla fine, soprattutto negli ultimi anni, quando lui era malato, io gli sono stato molto vicino, e sono felice appunto che come tu dicevi, e come raccontato nel libro, lui si è andato via e avevamo mano nella mano, e poi invece sì, la sorte ha voluto che per mia madre accadesse esattamente il contrario. Sono dolori, sono strappi, ecco, questo non salutarsi siccome è una cosa in generale nei rapporti umani che non va bene. E qual è l'ultima cosa che lei ha detto alla mamma, te la ricordi? Sì, me la ricordo benissimo, perché avevamo fatto, era una domenica, io stavo ritornando a Roma, c'era stata una cerimonia di famiglia, la prima comunione di due miei cuginetti, i figli di mia cugina, Andrea e Antonia, e mia mamma, semplicemente ci siamo salutati, allora ci vediamo il prossimo weekend, e ho detto sì, sì, ovviamente, sicuramente, l'ultima volta ci siamo visti. E invece con papà, forse, poi sai, tu sei anche cattolico, io non so, si può credere nella provvidenza, nel destino, però delle volte forse riconciliarsi con i genitori con i quali si è avuto più conflitto, ci serve di più, cioè, comunque con mamma tu mi hai detto, ho parlato tanto, con papà e il fatto di essere arrivati a tenergli la mano in punto di morte, poi è stato più importante, forse, perché c'era stato appunto più da discutere. E comunque, quando eravate, quando eri bambino, ti dicevano, farai il politico, tu volevi fare anche il presentatore. Eh sì. Peraltro Galeazzi l'hai conosciuto, perché come ministro dello sport... L'ho incontrato. Mi piacerebbe che anche tu lo ricordassi. Eh, ma certo, no, non ho avuto purtroppo occasione di avere delle belle chiacchierate come i tanti amici, anche amiche, care, insomma, hanno avuto con lui, però, insomma, un grandissimo personaggio, infatti alla lettura della notizia sono rimasto anche molto colpito. Poi lo ricordo soprattutto nei racconti di mio padre, perché mio padre era sempre lì, un grande appassionato di calcio, che seguiva tutte le domeniche, quindi me lo ricordo tantissimo. È un pezzo della nostra storia televisiva e non solo. Invece c'è una tua amica presentatrice, conduttrice, amatissima, viene spesso anche nel nostro studio, che ti manda un messaggio. Eccola qui. Ciao Vincenzo, è arrivata in questo momento da Milano con il tuo libro che ho comprato stamattina, Sotto la Madonnina. Te l'avevo promesso, hanno aperto lo scatolone e la prima copia è stata mia. Allora, ti volevo dire che la vita mia ha riservato una cosa bellissima. mi ha riservato la conoscenza di un uomo bello, speciale, importante, come sei diventato tu in questi anni per me. È difficile l'amicizia in età adulta, eppure noi ci siamo riusciti. Ormai fai parte integrante della mia vita. Ci uniscono un sacco di cose, tranne la buona cucina, perché io non sono capace di cucinare, quindi devi venire tu a aprire il frigorifero e prepararmi tu gli spaghetti come vuoi tu. Però ci uniscono, per esempio, l'amore per il mare, per la musica, per la pizza, e poi soprattutto vuoi mettere tu sei stato eletto a Casoria dove sono nata io. E questo dice tutto. Grandissima, grandissima, io te la voglio molto bene. Guarda, io sono comunque una persona fortunata, perché veramente se pensi, e questo me lo dico tutti i giorni, io sono arrivato veramente a Roma, avevo 18 anni, la mia famiglia non era assolutamente in grado di mantenermi qui a Roma, ho iniziato a lavorare, ho iniziato a lavorare all'Unicef, ho vissuto in tutti i quartieri possibili e immaginabili periferici di Roma, dove le mie risorse economiche mi consentivano di poter stare, e ho avuto invece in questi anni poi la possibilità di conoscere tante persone, di imparare da tante persone. A proposito, perché poi nel libro, senza riserve, ci sono anche una serie di aneddoti anche molto gustosi sulla nostra, io che sono una political addicted sempre, e quindi l'ho letto con grande piacere, peraltro lì c'è un episodio molto, il momento, soprattutto quella che è la storia dei Cinque Stelle, essendo stato, essendo dottora, insomma anche uno dei leader del movimento, e un vicino a Luigi Di Maio, che lo ha aiutato anche a entrare in tanti mondi, e c'è questa cosa di quando voi presentate Giuseppe Conte a Salvini, in occasione del governo Gianno Verde, per chi non se lo ricordasse, erano praticamente mesi, che un mese e mezzo credo che non si riusciva a trovare una quadra, il tentativo col PD, poi adesso con il tentativo con la Lega, bisognava trovare un premier, che devo dire è un po' il rituale però, e praticamente c'è un po' c'è tutto, tu scrivi, io lo preparai, immaginando le domande dei leghisti, cioè che cosa gli hai fatto, che domande gli hai fatto fare? Allora, intanto Giuseppe Conte era sicuramente già all'interno un po' della famiglia dei Cinque Stelle, perché collaborava a varie cose, grazie ad Alfonso Bonafede, dov'è che lo so, sembra surreale, però eravamo in una situazione di stallo, e quindi si stava sperimentando questa possibilità di prendere una persona che non fosse né il capo dei Cinque Stelle, che in quel momento era Di Maio, né della Lega, che era Salvini, ma trovare una terza persona. Perché né Salvini voleva Di Maio, né Di Maio era Salvini. Esattamente. Il classico stallo alla messicana. Quindi noi proponemmo tre nomi, che era una donna importante, ancora oggi, sono tutte e due vivi in carriera, quindi lasciamoli tranquilli, sì, assolutamente, un prefetto importante, poi appunto il nome è Giuseppe Conte, e la Lega ci propose il professor Sapelli. Sì, quindi Conte arrivò a Milano, io in realtà avevo conosciuto Salvini e Giorgetti da pochissime settimane, da pochi mesi, però quindi avevo imparato un po' di più sicuramente a conoscere rispetto a lui che li vedeva per la prima volta, quindi cercare più che altro di dirgli guarda, secondo me, avendo riconosciuto in questi mesi, tenteranno di capire queste cose. E quindi tipo cosa, per curiosità? Ma no, ma soprattutto, come dire, la sua capacità di mediare, perché lì bisognava trovare una persona, diciamo, disponibile culturalmente, proprio alla mediazione. La Lega ha avuto... Le sue posizioni su alcuni temi importanti. Tipo immigrazione? Sì, ma anche su quota 100, sugli altri temi che erano molto cari alla Lega, così come per il Radio Cittadinanza e altri c'erano molti temi cari a noi. E poi c'era anche una questione di capire che feeling si sarebbe riuscito a instaurare tra di loro. Comunque alla fine poi l'incontro, come si è visto almeno quello, andò bene. Poi tutto il seguito stenderei un velo pietoso. Ma è giusto scegliere un presidente del Consiglio così, secondo te? In quel momento è stata l'unica possibilità che sia giusto in assoluto o no. Peraltro racconti anche dell'evoluzione del Movimento 5 Stelle e di come appunto si è passato dall'uno vale uno a quella che tu chiami poi una maturità che in qualche modo hai agevolato anche con la tua formazione diciamo così politica istituzionale che arrivava appunto non strettamente dal movimentismo limit up, no? Però quello che tu chiami maturità qualcuno potrebbe chiamare incongruenza, potrebbe chiamare inaffidabilità. Ti faccio un esempio. Carlo Calenda che era qui l'altro giorno dice, ci ha detto a noi per primi 6-5 Stelle entrano nel gruppo dei socialisti e dei progressisti al Parlamento Europeo io esco, cosa che infatti ha fatto. Ecco, il tema dell'inaffidabilità del Movimento perché lui, per esempio, Calenda dice oggi io ho replicato vabbè ma adesso sono europeisti Ursula eccetera e lui risposta no, loro oggi sono europeisti domani potrebbero essere tutt'altro. No, no, io credo che sia un'analisi vabbè molto complessa ma che possiamo riassumere così abbiamo avuto questo momento iniziale in cui noi siamo stati votati perché tutti votavano contro altri partiti contro la Lega contro il PD contro la destra contro la sinistra e siamo arrivati al 33% sull'onda di un populismo ma di un movimentismo anche secondo me in tante parti sane poi ci siamo resi conto che governare è un'altra cosa per governare ci vogliono le persone capaci ci vogliono le persone con esperienza con competenza e che non tutto quello che pensavi di poter fare lo puoi fare perché ci sono dei vincoli di bilanci di Stato perché ci sono degli impatti diversi sulle cose lo so però voglio dire non sottovalutiamo il ruolo che ha avuto il Movimento 5 Stelle in un momento in cui negli altri paesi la gente andava in piazza e faceva ben altro diciamo che secondo me il voto al Movimento 5 Stelle è stato anche un voto che ha saputo catalizzare tutto a incanalare tutta una protesta che in quel momento forte c'era nel paese quindi oggi più che quello che dice Calenda io penso che sia un'evoluzione che finalmente ci potrà posizionare come forza politica su alcuni temi importanti e sei d'accordo ad esempio nell'ingresso del gruppo sì certamente io diciamo credo da sempre l'ho detto anche quando venivo attaccato al nostro interno che il Movimento 5 Stelle debba stare in Italia come in Europa in un campo sicuramente progressista però questo non vuol dire diventare succubi di altri partiti ma questo dipende dalla nostra capacità di avere un'identità politica propria di poter avere dei temi allora nel 2023 perché le persone dovrebbero ancora votare il Movimento noi dobbiamo sapere rispondere a questa domanda secondo te? secondo me ci sono due cose fondamentali che gli altri partiti né di sinistra né di destra riescono ancora a fare cioè declinare bene le grandi battaglie ambientali che sono il futuro sicuramente del nostro paese e riprendere la partecipazione dei giovani e questo è un tema che a me è molto caro quello dei giovani perché ormai i giovani che all'inizio ci hanno votato in massa ora non votano noi ma non votano nella Lega e nel PD quindi ritrovare ritrovare un modo per coinvolgere i giovani in Italia sarebbe una cosa importante io che mi sono occupato per tanti anni di giovani piacerebbe molto che il Movimento riuscisse a trovare le forme migliori per coinvolgere i giovani Presidente Mattarella ha praticamente rifatto capire per l'ennesima volta non sa più come fare esatto a dire non voglio essere ricandidato non accetterò un secondo mandato insomma lo reputa uno strappo istituzionale almeno a Leggio dicendo quello che dice peraltro si gira pure voce che abbia già firmato il contratto d'affitto per quando uscirà dal Quirinale ecco a questo punto che succede perché tanti devo dire in via trasversale auspicavano invece la possibilità che potesse accadere come per Napolitano che a un certo punto insomma Mattarella si sacrificasse per appunto restare al Quirinale si sacrificasse accettasse questa cosa che però abbiamo capito lui reputa uno strappo costituzionale grave quindi il principio non lo vuole per come ho imparato a conoscere non vuole che venga sottoscritta la rilegibilità esatto io per come ho imparato a conoscere ad apprezzare tantissimo il Presidente della Repubblica che tra l'altro è anche mi è stato molto vicino nel momento della pandemia sulle scelte dello sport c'è una telefonata di cui racconto nel libro che ebbi in un pomeriggio convulso dal Presidente Mattarella questa è la firma della Ministra che bella foto che mi colpi moltissimo dove il Presidente appunto mi in qualche modo mi sosteneva nelle scelte che stavamo prendendo di chiusura anche rispetto al mondo dello sport almeno in quella fase così grave della pandemia credo per come ho conosciuto che i suoi segnali siano chiari e inequivocabili allo stesso tempo penso che le ipotesi in cui si parla del Presidente Draghi siano ipotesi molto difficili perché dobbiamo secondo me sottrarre anche il Presidente Draghi dal rischio di 900 franchitiratori perché qui non si tratta di un gruppo o di due gruppi ma del fatto che un intero Parlamento senta la necessità di dover arrivare fino a fine legislatura e l'elezione di Draghi al Quirinale porterebbe al di là di quello che si dice in giro ma io vivendo il Parlamento e avendo già vissuto due governi ne ho contezza l'elezione del Presidente Draghi al Quirinale che avrebbe tutto lo standing di questo mondo sicuramente significerebbe andare alle elezioni a febbraio e allora ritorniamo all'incongruenza che dicevi tu del Movimento 5 Stelle parlo per noi adesso dopo il fatto di essere andati prima con la Lega poi col PD poi col governo Draghi adesso l'unica salvezza che noi abbiamo è nel 2023 far vedere alle persone che entrare in questo governo è servito a qualcosa per il Paese andare al voto adesso vanificherebbe tutti gli investimenti che il Presidente Draghi e prima ancora il Presidente Conte hanno cercato di fare con i soldi famosi che arrivano dall'Europa per PNRR quindi secondo me andare al voto è impossibile i parlamentari sanno bene che l'elezione di Draghi porterebbe al voto quindi io vedo molto difficile l'elezione del Presidente Draghi al Quirinale e quindi a quel punto si riaprono con l'indisponibilità del Presidente Mattarella per i motivi legittimi e condivisibili con questa difficoltà secondo me sul Presidente Draghi si riaprono di nuovo i giochi curiosità lei scrive nel libro che Giorgetti è l'uomo che gestisce il vero potere della Lega perché? Giorgetti è soprattutto non è Salvini i giornali scrivono molto di questa dicotomia lei li ha frequentati molto nel momento della formazione del governo però c'è stato poi un voto nel quale tutta la Lega si è compattata con Salvini lo stesso Giorgetti ha detto mi sono sbagliato per delle dichiarazioni che non avevano destato diciamo così buon umore nelle altre parti del suo partito la gestione del potere nel senso di rapporti con ambienti relazioni istituzionali internazionali credo che nella Lega ma anche legittimamente le abbia sempre coltivate molto più Giorgetti che Salvini che invece sempre è stato molto più impegnato più sulla parte mediatica sulla parte di piazza sulla parte quindi secondo me la cosa che ho scritto è vera ma è anche confermata poi dalle tante vicende che sono accadute il Presidente della Repubblica va scelto in modo più ampio possibile secondo lei? sì questo ne sono pienamente convinto anche con la Lega con Forza Italia se è possibile assolutamente sì è il Presidente della Repubblica su questo non c'è dubbio l'importante è che non si faccia una scelta diciamo di compromesso che poi mini la credibilità vera l'importante è che vada una persona un'autorevole donna uomo una persona autorevole che parliamo della carica della prima carica dello Stato senta Di Maio l'ha chiamata dopo il coming out sì devo dire Luigi mi è sempre stato vicino anche prima Luigi era una delle pochissime persone che sapeva che cosa sarebbe accaduto sia con il libro che nell'intervista con Fazio quindi assolutamente sì ci siamo sentiti ancora in questi giorni e chi l'ha detto? no ma Luigi noi siamo molto amici siamo veramente amici quindi al di là della politica e quindi poi tu l'hai chiamata e hai detto guarda vado a Fazio e dico questa cosa ho scritto il libro e dico questa cosa sì è stata un'esclamazione come dire e vai come dire nel senso con tutto quello che ne conseguerà ma sì andiamo a fare bene ma secondo me era peggio l'aspettativa che poi sono cose positive ma assolutamente sì e dico questo siamo entrati con una splendida giornata sappiamo che hai cantato una volta al karaoke con io devo dire l'ho intervistato Spadafora tante volte non l'ho mai visto così sorridente perché una delle prime cose che dice è di aver ereditato dal padre la diffidenza è vero e io questa cosa l'ho sempre percepita quando l'ho letta ho detto ci siamo allora non so se c'è il nostro Marco Armari la nostra Jessica che cantiamo? cantiamo una splendida giornata? cantiamo una splendida giornata va bene la cantiamo tutti insieme io non la so più bene cosa importa se è finita che cosa importa se è una gola bruciata o no ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata limpida una splendida giornata straviziata stravissuta senza tregua una splendida giornata sempre con il cuore in gola fino a sera in che la sera non arriverà una splendida giornata una splendida giornata con serena ad oggi è un altro giorno sì una splendida giornata sempre con il cuore in gola fino a sera finché la sera non arriverà evviva! grazie Vincenzo Spadafora senza riserve questo è l'augurio che faccio a tutti sempre oggi è un altro giorno di splendida giornata grazie grazie